Esiste una via d'uscita dal caos moderno senza cadere in false soluzioni? Esiste una risposta alle nostre mille inquietudini? La risposta è sì, esiste, ed è il meraviglioso mondo dei Santi Angeli. Benvenuto, mi chiamo Samuele Maniscalco e questo è il canale I Angeli Sono Con Noi. Tutto oggi genera un profondo malessere nelle nostre anime e ci chiediamo Possibile che non esista una scappatoia? Non c'è modo di uscirne? La vita deve davvero essere così grigia, deprimente e agitata? Molti cercano una via di fuga e finiscono per trovare false soluzioni. Esoterismo, magia, stregoneria, satanismo, tutte cose che stanno crescendo in modo preoccupante. Alcuni lo fanno perché non riescono a trovare altre alternative. E qual è la via d'uscita? C'è una via d'uscita? La risposta è sì, esiste, e questa via d'uscita è il mondo soprannaturale, è il meraviglioso mondo degli Angeli. Se è vero che il diavolo ha certi poteri, i Angeli buoni ne hanno molti di più. Per cominciare sono molto più numerosi di quelli cattivi. Lo sapevate? Sapete come si muovono, come agiscono, dove vivono, che rapporto hanno con il nostro mondo materiale? Conoscere le risposte a queste domande incoraggia e ci dà i mezzi per lottare contro l'influenza e l'azione nociva dei demoni nei nostri giorni. Come ci solleva a sapere che i Santi Angeli possono proteggere i nostri cari? E' solo conoscendo questo mondo, il mondo angelico, e sapendo come chiedere e attirare la loro azione, che potremo liberarci dalla costante influenza del diavolo nella vita moderna. Ed è per questo che nasce il canale I Angeli sono con noi. Anche perché, senza la devozione ai Santi Angeli, non è possibile operare per il Regno di Dio in questo mondo immerso nel peccato. Aborto, ideologia gender, immoralità diffusa. In una sola parola, rivoluzione contro l'ordine stabilito da Dio. Caro amico, iscriviti oggi al canale I Angeli sono con noi e invita i tuoi contatti a fare lo stesso. E' un atto di vera amicizia farlo. E' solo conoscendo il mondo dei Santi Angeli e sapendo come chiedere e attirare la loro azione, che potremo liberarci dalla costante influenza del diavolo nella vita moderna. Iscriviti subito, attiva la campanella, lascia un commento e metti un like. E' semplice e gratuito. Grazie di cuore. Grazie a tutti.